Federico tra l'altro ecco mi dicono che ci sono delle ballerine tra l'altro poi le presenteremo lei è la più piccola che si chiama Olga, Olga mia figlia e poi Virginia quindi Olga e Virginia le vedremo anche su questo palco Rosario, secondo anno secondo anno qui per la notte di Sant'Antonio notte bianca è veramente un onore Teresa essere qui naturalmente ringraziamo intanto tutto lo staff di Sant'Antonio, Padre Mario per questo bellissimo evento un evento che è tanto sudato perché dietro ci sono mesi e mesi di lavori quindi ringraziamo tutti coloro che stanno lavorando per questa magnifica notte bianca un applauso va a tutti voi un applauso più forte per tutti coloro che hanno organizzato ore e ore lì a lavorare proprio per la riuscita di questa serata e poi ringraziamo il comune, il comune di Marsina che ha patrocinato tutti questi entri